Salve, buonasera, sono qui per dare la mia testimonianza più che favorevole per quanto riguarda l'acquisto dei corsi online dello chef Andrea Di Giglio. Per la mia esperienza posso dire che mi sono avvicinata a questo corso con scetticità, in quanto avendo fatto altri corsi in presenza, avendoli pagati parecchio e credendo che in presenza si potesse chiedere e fare di tutto, nel senso esternare le proprie lacune e chiedere allo chef di diradare i propri dubbi, cosa che non è successa in quanto si è svolto tutto molto frettolosamente e approssimativamente per molti lati, quindi diciamo facendo un pensiero di confronto laddove c'era l'interazione fisica con la persona, non siamo riusciti a diradare i dubbi che uno poteva avere, figuriamoci un corso online. E quindi mi sono avvicinata con i piedi di piombo, anche se questo corso mi era stato caldamente raccomandato dalla mia carissima amica che si è trovata benissimo. Però ecco, dove essere sincera, pensavo che avrei avuto la stessa delusione di quello in presenza, perché lo immaginavo qualcosa di statico, che uno vedeva il video, il tutorial, quello che poteva essere e poi non c'era uno scambio comunque di informazioni tra allievo e chef. Mi sono dovuta ricredere perché io ho scelto il corso dei grandi lievitati, la gestione di quattro differenti paste madri e dove essere sincera, l'assistenza è stata continua, solerte ed esaustiva. Lo chef, oltre che ovviamente essere un grande professionista, è molto disponibile, è molto gentile e ad esempio io ho trovato difficoltà nello svolgimento dell'impasto della colomba collicoli, ho avuto delle difficoltà, infatti il primo impasto per colpa di una errada gestione della pasta madre e diciamo non è andata a buon fine e lui mi ha risposto prontamente di come potevo aggiustare il tiro per non buttare tutto e qualsiasi domanda che io ho fatto, anche orari impensabili, diciamo che sono state risposte esaustive, ripeto, che mi hanno aiutato in quel momento di difficoltà, ma tutto l'entourage della piattaforma che è veramente ben strutturato, ad esempio anche la signora Fiorella con la quale mi sono rapportata nel chiedere informazioni, è una persona come mi ripeto alle prime armi per quanto riguarda un corso online e mi ha dato tutte le informazioni possibili, immaginabili, sempre molto disponibile e pagata e gentilissima. Il corso, perlomeno quello che ho fatto io, ma credo che essendo come specchietto e modus operandi, credo, dello chef è strutturato molto bene perché è strutturato in step e lo chef spiega veramente bene. La cosa che mi è piaciuta molto è che usa un linguaggio semplice, che non è scontato e non dà per scontato che gli altri conoscono certe terminologie, cosa che purtroppo invece ho trovato nei corsi in presenza, che lo chef, per carità, bravissimo, con esperienza pluriventennale, però forse davano per scontato che chi amatore come me usasse delle terminologie o anche dei modi di tecnici, che ovviamente, ripeto, a chi ha questa passione a livello casalingo non conosce neanche. E quindi, ecco, io, dove essere sincera, ribadisco, mi sono trovata molto bene e chi avesse dei dubbi in merito, senza remore, dico, di acquistare tranquillamente un corso di Giglio, dello chef Andrea Di Giglio, perché è spiegato molto bene, c'è un'assistenza post-corso e nel corso veramente splendida e veramente merita davvero, quindi senza nessun dubbio acquistateli perché ne vale veramente la pena.